Sono giorni pieni di attività, confronti, condivisione di idee, progetti tra studenti e studentesse di tutta Europa, esperienze già vissute in altri paesi che vengono raccontate o ancora tematiche da approfondire ancora di più prima di preparare le valigie e affrontare il viaggio. Sono tre giorni di grande fermento per le scuole che decidono di aderire agli Erasmus Days, diverse le realtà scolastiche del territorio che organizzano nelle tre giornate del 13, 14 e 15 ottobre degli appuntamenti dedicati al programma Erasmus+. L'ITET Rapisardi da Vinci, ad esempio, presenta i due progetti della scuola No Balli No Cry per la lotta al bullismo e al cyberbullismo e Code of Youth Shield of Human Rights, che parla della dichiarazione dei diritti umani. La scuola nissena con l'evento Join Us for Erasmus Days si rivolge agli studenti delle medie. Nell'auditorium della sede di Viaturati, il 14 ottobre, gli stessi saranno coinvolti attivamente. Gli studenti di Rapisardi da Vinci, infatti, interagiranno con i presenti durante la drammatizzazione in lingua inglese. Si preannunciano anche dei giochi, sempre in lingua inglese, per riflettere sugli argomenti trattati e ancora musica con la band della scuola. Nella stessa giornata, anche liceo classico linguistico e coreotico Ruggero VII, che ha realizzato diversi progetti legati al mondo Erasmus, organizza un focus group tra chi ha già vissuto le esperienze e chi invece è in procinto di partire, coinvolgendo studenti e studentesse che per lo scambio hanno utilizzato come lingua veicolare l'inglese e il tedesco. E ancora tra le scuole che hanno aderito, c'è la Carducci di San Cataldo. La scuola secondaria di primo grado ha realizzato diversi progetti negli ultimi due anni. A novembre, ad esempio, si concluderà un programma di formazione all'estero dei docenti con la mobilità in Spagna e lo stesso mese partirà un altro progetto rivolto però agli alunni. Tra oggi e domani, dunque, 13 e 14 ottobre, si prevedono diverse attività durante gli Erasmus Days, tra incontri anche con i genitori, filmati, spot e conferenze ed è stato persino progettato un logo per l'evento che è stato proposto dal docente Leandro Ianni.